La nostra Europa oggi è mortale, può morire, è il messaggio che è anche un avvertimento lanciato dal presidente francese in un discorso alla Sorbona, in cui ha illustrato la sua visione per il futuro dell'Unione. Sette anni fa, nello stesso luogo, il capo di Stato francese difendeva un'Europa sovrana. Oggi sostiene la necessità di un'Europa potente e geopolitica per affrontare le sfide di sicurezza ed economiche. Etre lucide, des decenni di suzinvestissement in nos propria produzione. E al fondo, le dividende dell'AP hanno fatto che gli europei hanno insuffisamente produiti, investiti. Ce che ha anche creato una forte dipendanza all'egare dell'industria non europea. Allora, face a questo, noi dobbiamo produire più vite, noi dobbiamo produire davantage e noi dobbiamo produire più in europeo. Per Macron, se l'Europa non vuole perdere terreno, deve anche cambiare il paradigma dei suoi legami economici e commerciali. Con standard sociali e ambientali più esigenti, l'Unione rischia di soccombere alle politiche aggressive di Stati Uniti e Cina, che operano in maniera spregiudicata per difendere i loro interessi. Noi abbiamo oggi un défi, c'è di andare molto più vite e di rivedere il nostro modello di crescita. Perché là anche le regole del gioco hanno cambiato, e le hanno cambiato in maniera semplice. Le due prime puissance internazionali hanno deciso di non rispondere più le regole del commercio. Lo dico in termini molto semplici, ma è questa la realtà, dopo l'Unfession Reduction Act. Il Presidente vuole accelerare la politica industriale in cinque settori strategici che daranno forma al mondo di domani. Intelligenza artificiale, informatica, quantistica, spazio, biotecnologie e nuove energie. Infine, secondo Macron, è in gioco anche la battaglia per i valori europei e le democrazie liberali. Emanuele Macron's speech definitely had an electoral flavor behind it. With about six more weeks to go before the European elections, the President's party renaissance is currently lagging behind in the pools, 10 to 16 points behind the French far right, which the President didn't hesitate to tackle indirectly during his speech, claiming that nationalists want to stay in the European house, but without paying the rent. Sofia Katsunkova, in Paris, for Euronews.